Salve di Eugenio Montale, gli uomini che si voltano. Probabilmente non sei più chi sei stata, ed è giusto che così sia. Ha raschiato a dovere la carta a vetro, e su noi ogni linea sia sottiglia. Pure qualcosa fu scritto sui fogli della nostra vita. Metterli contro luce è ingigantire quel segno, formare un geroglifico più grande del diadema che ti abbagliava. Non apparirai più dal portello dell'aliscafo, o dai fondali d'alghe, sommozzatrice di fangose rapide per dare un senso al nulla. Scenderai sulle scale automatiche nei templi di Mercurio, tra cadaveri in maschera, tu la sola vivente, e non mi chiederai se fu inganno, fu scelta, fu comunicazione, e chi di noi fosse il centro a cui si tira con l'arco dal barracone. Non me lo chiedo neanch'io, sono colui che ha veduto un istante, e tanto basta a chi cammina incolonnato, come ora avviene a noi, se siamo ancora in vita, o era un inganno crederlo. si slitta.